Allora io conosco benissimo il mondo dell'agricoltura perché comunque fa parte del mio lavoro, perché come sapete sono comunque un'imprenditrice del settore dell'agricoltura in qualche modo. Quindi conosco questo mondo da sempre e conosco le difficoltà che gli agricoltori devono sostenere ogni giorno. Oggi più che mai si chiede agli agricoltori di portare avanti una produzione con degli elevati standard, con dei costi elevatissimi anche cercando di garantire ovviamente la sostenibilità ambientale come è giusto che sia. Ma il problema è che purtroppo i prezzi dei prodotti non permettono agli agricoltori di sostenere addirittura i costi che la produzione richiede. E questa credo sia una situazione assolutamente insostenibile per cui il mio supporto al mondo dell'agricoltura c'è sempre stato e oggi più che mai perché credo che questo mondo che tra l'altro rappresenta un settore fondamentale per la nostra nazione, per la nostra regione, per la nostra provincia debba in qualche modo recuperare dignità. Io credo che bisogna mettere in atto tutte quelle politiche che vadano a sostegno e a supporto dell'agricoltura perché comunque, come sostengono anche loro, l'agricoltura è vitale e rappresentano anche la nostra quotidianità dal momento in cui mangiamo comunque prodotti agricoli ed è assolutamente fondamentale tutelare il prodotto italiano che tra l'altro è un'eccellenza del nostro paese.